Ed eccoci Ecco, come no Ed eccoci ritornati nella seconda parte del video Sì, ci sono ancora qui tutte le creazioni Per voi sarà passato magari qualche giorno Magari una settimana Boh, non lo so Però per me sono passati appena 10 secondi Quindi, ehi, eccoci qua con un nuovo video Allora, volevo vedere troppo Sì, questo volevo vedere Perché stavo cercando se ce n'erano altri delle morroschino Ma no Ah sì, che deficiente Scusate ragazzi, sono scema, lo sapete Allora, ho fatto questa Ecco, telefoni che suonano, vabbè Ho fatto questa tartarughina Stupenda Potevo farla verde Ma verde era troppo scontato, dai eh Non è che mi sono dimenticata di colarci la resina verde Quindi ce ne ho colata una di un colore diverso No, no Vabbè, dettagli Ed eccola qua Poi, vabbè, l'ho visto adesso E infatti lo voglio tirare fuori Questo gatto Voglio vedere come è uscita la sfumatura Davanti Allora Mi sto prendendo bene con queste sfumature qua E mi piacciono un sacco E devo dirvi che questo gatto qui è proprio, proprio, proprio carino Mi piace davvero tanto questo effetto Via lo stampo Poi Cos'è che devo far vedere? Ok, questo stampo qua devo far vedere Che è uno stampo che abbiamo acquistato da Miri Creation Ok, ce l'ho fatta Può sembrare uno stampo molto normale Nel senso che Può sembrare tutta verde la resina Ma se la guardate così Non è tutta verde Perché Magia 3, 2, 1 Magia Allora La parte davanti è fatta col pigmento fotosensibile Viola E mi piaceva troppo fare questa sfumatura qua In stile Sally Non so che questo è E Jack Però in realtà l'ho fatti con i colori molto di Sally E niente Mi piace moltissimo Questo stampo qui è molto strano Ha una sensazione molto strana Nel senso che non è lucida Sembra quasi Può essere legno forse Non lo so Però è molto, molto carino Adesso sta svanendo il colore E ci lascerà così E vabbè Che ci possiamo fare? Lo tengo così perché è ancora un pochettino molle la parte dietro Poi Stampo nuovo Questo L'avevo già tolto Dettagli Anche questo stampo nuovo Che è anche la Questo Ha la magia Ecco qua Anche questo qua Ha fatto la sua magia Ed è un cupcake Però è fatto benissimo Perché è su due strati Vedete Molto, molto carino E a me piace un sacco Quindi Bellissimo Poi Facciamo vedere Queste foglioline Si è già tolta l'altra Vabbè Dai Questa qua è una foglia molto Ying e yang Molto, molto carina Poi Vediamo questa Che È una fogliolina Sfumatura Sui tre colori Che non rende molto Però vabbè Molto, molto carina Prossimo stampo Questo qui è Mollissima Davvero Cioè L'ho colata Poche ore fa Però Si può già togliere Dettagli Allora Il colore Appena Riesco a mettervelo a fuoco No Non lo metto a fuoco Sì Ok L'ha messo a fuoco Questa è la planchette Sì Vabbè Lasciate perdere Che qua c'è un Una sopracciglia Allora La planchette È questa qua Con la scritta Yes e no E il colore Mi piace molto È questo bianco Però con tutti questi glitter Molto, molto carino Bella Poi Vediamo Minnie Sì Anche questa è uscita Con delle bolle Cioè Voi non potete capire Aspettate Forse Il miracolo Forse Devo gridare Al miracolo Sì Ragazzi Gridiamo al miracolo Non ha nessuna bolla Posso finalmente Spedirla Alla ragazza Alleluia Vabbè Dettagli Poi Cosa devo far vedere Devo far vedere Totoro Totorino Molto carino Anche questa stampo Fatto con Una forma di Francesca Lola Lola Skid Corner Ed è bellissimo Allora Non so come ho fatto A far venire Questo effetto Avevo mischiato Così molto Alla cavolo Però mi piace tantissimo Molto carino Molto carino Come effetto Se fosse venuto Soltanto Nero sopra E bianco sotto Avrebbe fatto Un po' Cagare Però così È molto Molto carino Mi piace Andiamo avanti Vediamo Anche questa Placettina Anche questa Magia Voilà Ve l'ho illuminata Poco Per farvela Vedere giusto Due secondi Eccola qua Molto carina Poi Andiamo a vedere Ecco Se non faccio danni I stampi Con Gli sticker Sì Mi sono data La pazza gioia Con gli sticker Vabbè Allora Primo fra tutti Questo gufetto Ehi Ok Eccolo qua Questo gufetto Bellissimo Mi piace un sacco È molto semplice Come creazione Eppure Secondo me È molto Molto carina Poi Andiamo avanti Vediamo questa Che spero sia uscito bene Wow È uscita benissimo C'è davvero Mi piace tantissimo Allora Questi sticker qua Con i gattini Sono diventati I miei nuovi sticker Preferiti Ve la avvicino E ve la metto a fuoco Per bene Ecco qua Questa è la La creazione E ho cercato Di ricreare Un po' Un effetto Quasi galassia Molto molto semplice Con delle stelle Perché questi gatti Mi ricordano molto Un pastel galaxy Molto bello Andiamo avanti Con questo Altro stampo Con sempre sticker Dentro E Tirati fuori Questo qua Questo qua Ho voluto provare A non farci Lo strato dietro Per vedere Sì È molto sottile Però No vabbè È uscito stupendo Forse sì Ci metterò Uno strato dietro Sì Perché sennò È un po' Trasparentino Però mi piace Troppo Questo effetto Un po' Nebulosa Sul viola Che Non potete capire Come l'ho fatto Uscire Questo effetto Soltanto mia madre Potrà sferarvi Il zeghetto Ovvero L'ho fatto Alla cavolo Cioè Non sapevo Cosa stavo Facendo Questo sticker È stupendo Allora Voi non sapete Ma Io amo I pinguini Cioè davvero Mi piacciono Alla follia L'ho voluto Fare questa creazione Molto Molto Easy Però Che Avesse Questo effetto Del ghiaccio È troppo carino Poi Andiamo a vedere Qua Che dovrebbe Eserci Sì esatto Un gufetto Oh Che carino Allora Sì mia sorella Lo so che sa fare L'effetto Legno Albero Molto meglio Però vabbè Dai È uscito carino Vero che Sembra un tronco Mi prego Commentate qui sotto Dicendo che Sembra un tronco Se no Mi sentirò Molto Poi Prossimo Non guardatemi Così sembra Un tronco No Vabbè Ehi Telefono Ok Il prossimo È anche questo qui Un Pinguino Non mi veniva il nome Eccoli qua Mi piacciono molto Siano molto carini Cadici Poi 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 Cosa facciamo vedere Questo Anche qui Dovrebbe esserci Un gattino Esatto Anche questo Molto semplice Molto carino Ci stiamo rifornendo Di cose Con gli sticker Perché vorremmo Fare qualche Bancarella Quindi Dobbiamo iniziare Che carino Ok Scusate La reazione Ma È bellissimo Troppo Puccioso Vabbè Andiamo veloce Avanti Perché se no Non riesco a farvi vedere Tutto Poi Anche questo gatto L'ho voluto lasciare Trasparente Per vedere L'effetto Che faceva Anche questo Mi piace molto No Questo mi piace Di più Trasparente Sì Molto carino Poi Andiamo a vedere Questo stampo Che lo tengo fuori Dall'inquadratura Perché se no Non si vede più niente E andiamo a vedere Questi Qua Ok Eccolo Questi qua Sono gli sticker Quelli di Aladin Sì Jasmine In realtà Però vabbè Questa luna Che cola No Non cola Vabbè Fa niente Avete capito Detagli Poi Questo Che caruccio È troppo buccioso Allora Questo qua Non so che personaggio sia Se è un personaggio famoso Non lo so Tipo Gudetama O cose del genere Però è un personaggio Troppo carino Cioè È questa pallina Bianca Sembra un po' Baymax In realtà Però vabbè Detagli Molto carino Poi Andiamo a vedere Le ultime due creazioni Wow Questa è bellissima Questa mi piace un sacco È molto molto semplice Cioè sapete che io faccio un po' le cose molto semplici Passo da questo A questo Sì Oppure da Questo A questo Che vabbè È molto più grande Del balzo E Poi vediamo L'ultima creazione Penso Sì Spero di non averne dimenticato nessuna Ed eccola qua Questa qui A parte che vibrano cellulari A caso E ragazze Ci siamo soltanto noi tre Il mio è silenzioso È quello di mia madre Sì Esatto Vabbè E questa creazione qua Io la volevo dare a mia madre Ma in questo momento Mi ha fatto infuriare Quindi gliela nasconderò Niente Molto molto carina Visto che lei ama le piante grasse Ho voluto fargli una Una cosina carina Per lei Almeno la può mettere Nelle Nelle chiavi Non guardarmi così E niente ragazzi Il video di oggi Cioè la seconda parte Finisce qua Io vi ringrazio per aver visto il video Tanto poi qui sopra Dopo usciranno Tutte le parti dove trovarci Cose del genere Io vi ringrazio per aver visto il video Per aver visto il video E noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao Grazie.